Questa volta faccio un video per raccontarti una cosa che certamente non ti farà piacere, te l'hanno messa in quel posto e non te ne sei neanche accolto. E' così. E adesso ti spiego perché. Tutto era cominciato con magnifiche campagne pubblicitarie che promettevano grandi cose nel momento in cui tu avessi cominciato ad avere nel tuo smartphone la mitica connessione a 5G. Dicevano che tutto andava veloce, dicevano che potevi scaricare giga di dati in pochi secondi, dicevano che la tua vita sarebbe cambiata e ti chiedevano di pagare qualche tariffa in più, qualche abbonamento in più, di cambiare il tuo abbonamento, di fare delle cose. E tutte le compagnie telefoniche che operano in Italia magnificavano le doti, le sorti che avremmo avuto tutti quanti nel momento in cui i nostri telefonini fossero andati a 5G. però già in quella volta si vedevano delle cose che non andavano tanto bene. Cioè, si vedeva che la potenza del segnale era ancora tutta da definire, si vedeva che i telefonini erano ancora tutti da, come dire, a ricollocare, a riprogettare e vado nello specifico, cioè te lo spiego lato per lato, parte per parte, quello che è veramente successo. Il 5G in Italia non esiste neanche adesso e ti spiego il motivo. Per avere il 5G dicevano che sarebbe stato tutto molto facile, dovevi avere un telefonino 5G e invece non è così semplice. Perché oltre al telefonino 5G, sul quale adesso ti spiego alcune cosette, bisognava avere le antenne che diffondessero il 5G. E qui si è scatenata un po' la guerra dei mondi, perché a livello mondiale i monopolisti della manifattura di queste antenne che diffondono il segnale 5G sono i cinesi e gli americani gli sono andati addosso. Io non so se ricordate, c'era ancora Trump presidente o Judy Lee, quando ci fu un grande ostracismo negli Stati Uniti in particolare nei confronti della Huawei, che era quell'azienda cinese, del governo cinese, che faceva le antenne per diffondere il 5G. Non è per niente scontata questa cosa della diffusione del segnale 5G, perché in Italia non è mai avvenuta. E adesso ti spiego il motivo. Le antenne 5G sono state messe con tantissima difficoltà. Hanno messo invece una specie di acceleratore del segnale 4G, spacciandotelo per 5G. Per cui hanno potenziato la struttura delle antenne che diffondono il segnale di connessione cellulare per darti un po' più di velocità. Ma le vere antenne 5G sono state posizionate veramente poco dalle telefoniche, con grande difficoltà, per motivi burocratici, per l'ostracismo di certe associazioni, certe correnti di pensiero che parlavano di un 5G dannoso per la salute. Non so se ti ricordi, c'erano pure i novax, i terrapiattisti, che dicevano che i vaccini Covid ci avrebbero inoculato tecnologie che aumentavano il 5G. Insomma, vabbè, è successo di tutto. Però in Italia non sono mai partite veramente queste antenne che diffondevano il segnale 5G, ma sono state, fra virgolette, sostituite da antenne 4G plus, 4G turbo, insomma, per essere chiari. Dopodiché c'è il problema dei telefonini. I telefonini 5G dovevano avere dei router che captavano il segnale 5G e i router nativi per il 5G sono in pochissimi i telefonini. Credo che l'iPhone 14 ce l'abbia, che l'iPhone 15 ce l'abbia, ma anche gli iPhone precedenti non avevano proprio dei router dedicati a captare il segnale 5G. E quindi i problemi non sono finiti qui, perché poi ce n'è un altro, che il presunto segnale di 5G non ha mai dato quello che veramente servirebbe agli utenti della connessione cellulare. Mi riferisco a una cosa un po' particolare. A parte che ho fatto adesso, in questo istante, mentre sto riprendendo questo video, un test dentro un locale fronte strada a Milano con Wind 3, e ho visto che in download è a 62 Mega e in upload a 25 Mega, cioè un segnale 4G. mentre invece il mio telefonino segna 5G. Però a parte questo, ok? Perché se vado fuori per strada diventa 400 Mega in download e 60 in upload. Ma non è quel giga al secondo che ci hanno sempre promesso con la connessione 5G. ma il problema di questi dati non è tanto la potenza del segnale, soprattutto non è tanto la potenza del segnale in download. Perché il download serve a fare una cosa, serve a scaricare il contenuto, scaricare un file. Quindi, diciamo così, a chi garba? Pensaci un attimo. Garba esattamente alle aziende molto ricche che producono contenuti. Amazon, Prime Video, Netflix, Disney. Ma non garba poi a te, che comunque vedi quei contenuti in un device molto piccolo o in un tablet. Però è una cosa che, rispetto all'uso dell'utente, serve solo quando tu stai fruendo di un contenuto. Ma la questione principale è che a te servirebbe l'upload. Cioè la capacità di inviare dei file molto velocemente. Ti servirebbe per il lavoro. Ti servirebbe se fai content creator e devi inviare un video, che pesa molto. Ti servirebbe per inviare dei file. Ti servirebbe per fare delle call in buona connessione, con un buon segnale, vedendo e sentendo perfettamente chi ti sta di fronte dall'altra parte della connessione di queste applicazioni di comunicazione che ormai usiamo stabilmente. E invece niente. E quindi te l'hanno messa in quel posto, ti hanno fatto credere che il 5G ci fosse e ti ho dimostrato che non c'è. perché non ci sono le antenne, perché non ci sono i cellulari, perché non ci sono i segnali giusti e la potenza giusta e la potenza promessa dalle magnifiche sorti e progressive delle campagne pubblicitarie. E quindi è un grande bluff. Perché a un certo punto nessuno ha, come dire, menzionato più le tariffe 5G, i plus del 5G, i vantaggi del 5G. E ti dico che nel 2028, quindi dopo domani mattina, sta arrivando il 6G, sarà un altro bluff. Cioè questa tecnologia, e qui chiudo, se non migliora davvero, se non viene sostenuta dall'infrastruttura, se non viene sostenuta dai device, perché la dobbiamo pagare noi? Perché la devi pagare tu? Perché ci devono impapocchiare che avere il 5G nel telefonino ti risolverà i problemi che hai nella vita, quando l'upload è assolutamente uguale a 4G? Cioè per inviare un video ci stai lo stesso tempo che ci stavi prima. È una cosa che veramente non riesco a capire della tecnologia e di come venga proposta ai consumatori, agli utenti, a quelli che dovrebbero migliorare la loro vita proprio grazie alla tecnologia che ci sta intorno. Alla prossima!